Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rassegna stampa con di prima mattina il buongiorno insieme a me ve lo porge Maurizio, Maurizio Valeriani che è di A. In regia andiamo a cominciare dando un'occhiata alle notizie internazionali e nazionali, cominciamo dal sito dell'Ansa, ansa.it, inforchiamo gli occhiali, l'apertura è dedicata alle primarie statunitensi, Trump vince le primarie anche in New Hampshire, Hayley dice la corsa è all'inizio, il tycoon Trump dice lei dovrebbe ritirarsi, contende alle primarie appunto il ruolo di candidato presidente per i repubblicani, lei dovrebbe ritirarsi, poi successo simbolico per Biden, USA 2024, reportage dal quartiere generale di Donald inviato da Dio, la maratona USA 2024, le primarie, convention e voto qui sul sito dell'Ansa, poi una notizia che ha colpito, anzi due notizie, veniamo da quella che ha colpito davvero tutti per la scomparsa di Gigi Riva, lo apriamo questa notizia, andiamo a vedere all'interno, addio rombo di tuono, la camera ardente di Gigi Riva, l'abbraccio dei tifosi alle 16, i funerali e poi verso la notte del cinema, Garrone, il regista Matteo Garrone nella corsa agli Oscar con il film Io Capitano, Oppenheimer, guida le nomination ne ha ricevute, ben 13 il film Oppenheimer, poi gli altri titoli, Hamas, la guerra in Medio Oriente, Hamas apre al rilascio di alcuni ostaggi in cambio di una tregua a duratura, nuovo scontro all'ONU su Gaza, Israele isolata, donne vestite da bambole violentate nei tunnel, e poi arriva il via libera al disegno di legge, arriva il primo sì all'autonomia, ma è Bagarri in aula al Senato, autonomia il disegno di legge dai leppi ai tempi di attuazione e vedete qui poi nelle foto alcuni momenti di quello che è successo ieri in aula, e poi la protesta al violo sciopero di 24 ore di bus, tram e metro, in primo piano Tavares, Stellantis, investiamo dalla politica critica ingiusta e con ritardo incentivi persi 9 mesi, altro produttore, lotteremo le polemiche per quanto riguarda la posizione di Stellantis. Adesso andiamo, anzi vediamo qui nel colonnino dell'ultimo ora, alle 6.46 Gaza, Cameron oggi in Israele vedrà Netanyahu e Caz e poi alle 6.24, gruppo gestiva tre piazze di spaccio a Catania, ordinanza per 14, alle 5.41 Mongolia, 6 morti e 14 feriti per un'esplosione di gas. Ore 4.47, Argentina, Aerolinas, lo sciopero ci costerà 2 milioni e mezzo. E poi gli Australian Open, impresa dell'Ucraina, Jastrenska è in semifinale. E dunque queste le notizie, l'ultimo ora nel colonnino dedicato da Lanza. Lasciamo il sito dell'Anza, andiamo a dare un'occhiata al sito di Repubblica, la repubblica.it. L'apertura anche qui è dedicata alle primarie negli Stati Uniti, elezioni storica vittoria di Trump alle primarie repubblicane in New Hampshire. L'avversaria, a lei dice, la corsa non è ancora finita. Veterani evangelici, ora anche laureati, tra la folla per Trump nelle primarie. Chiave è appunto l'inviato di Repubblica che relaziona, attacco all'informazione, il caso giornalisti e opposizioni, meloni, insofferente a ogni forma di critica secondo la Repubblica. E poi il caso pronti a cedere il 13%, il governo ora ammette la vendita di quote di poste. In retroscena la stampa del Mirino, il modello sovranista che piace alla Premier in vista delle europee e dunque l'intervista attacco alla stampa a Zariti, destra intollerante, punta solo a delegittimare la Costituzione vieta. Censure ancora, in primo piano l'intervista a calenda, governo e sindacato manca una politica industriale per lo sviluppo. E poi l'autonomia, l'autonomia differenziata, il voto, il Senato approva l'autonomia, l'opposizione canta l'inno di Mameli e Sventola, il tricolore. La Lega espone il leone di San Marco. E poi l'analisi, autonomia è una legge che trasforma legittime diversità territoriali in stabili diseguaglianze civili di Isaia Sales. Bene, queste sono le notizie principali sul sito di Repubblica. Diamo un'occhiata al fatto quotidiano. Il sì del Senato al disegno di legge di autonomia, le opposizioni protestano sventolando il tricolore. La Lega risponde esponendo il leone di San Marco. E poi Stellantis diventa sempre meno italiana, è tutto vero, ma il governo non sta facendo nulla per trattenerla. Intanto Tavares batte cassa e dice altri soldi per l'elettrico. Antimafia, l'ex PM Natoli smentisce Trizzino, da lui accuse false. Ecco le carte, mafia e appalti non è la causa esclusiva delle stragi. E poi dal fatto quotidiano in edicola, mafia, le tre missioni di Graviano e Messina Denaro per Maurizio Costanzo e il rebus delle foto sarebbero stati fotografati proprio all'epoca in teatro al Parioli a seguire il Costanzo Show. Israele annuncia l'assedio di Khan Yunis, uccisi altri 21 soldati di Tel Aviv. Stati Uniti discutiamo su pause umanitarie lunghe. E poi economia e lobby, credito aumentato dopo la tassa sugli extraprofitti che nessuno ha pagato, la bufala di Meloni. Migranti, il governo festeggia il calo di sbarchi dalla Tunisia, la Commissione dell'Unione Europea dice accordo funziona, amnesty, falso, è un fallimento. Dunque posizioni non proprio tutte univoche, tutte insomma con lo stesso punto di vista. Bene, lasciamo adesso i siti, andiamo a vedere la prima pagina del messaggero, quella nazionale, poi andremo alla prima pagina del messaggero d'Abruzzo. Eccoci qua, Mar Rosso rincari per la crisi, questa è l'apertura. L'effetto degli attacchi uti ai cargo sui prodotti made in Italy aumenti fino al 10%. Agricoltura, blocchi e tensioni nell'Unione Europea, le regole green mandano in tilt le aziende. Questa è l'apertura, il titolo più grande. Poi vedete qui sopra, intanto oggi funerali solenni, Sardegna in coda per Gigi Riva, l'amico, ha scelto di non operarsi, è quello che ha detto anche il dottore nella conferenza stampa. E poi a Australia ha travolto Rublev, capolavoro Sinner, ora in semifinale l'Eterno Djokovic. Per quanto riguarda i premi Oscar il 10 marzo, Garrone continua la corsa all'Oscar, io capitano il suo film, è nella cinquina per i premi Oscar. Davvero un bel riconoscimento per il momento. Gaza, razzo palestinese colpisce un edificio, Israele giorno nero, uccisi 21 soldati, Hamas rifiuta la tregua per gli ostaggi. Poi la fotonotizia, un anno senza Thomas non vivo più, la mamma del giovane ucciso ad Alatri, gli rifaccio il letto tutte le sere. Il delitto di Pamela, ergastolo ausegale, fu anche violentata. La Cassazione non fa sconte al nigeriano, la madre della ragazza dice «Ci aspettavo da sei anni». E poi il titolo che rimbalza in prima pagina, un titolo della cronaca abruzzese, «Polemiche a Pescara, uccise l'ex nel 2016, condannato a 30 anni, già esce dal carcere». Poi lo ritroveremo nelle notizie, ovviamente, della cronaca locale abruzzese. Andiamo alle prime pagine del centro, delle quattro edizioni del centro per l'Abruzzo. Cominciamo con l'edizione di Pescara, eccola qui. L'apertura a Pescara, scuole accorpate, scoppia la polemica. Scontro Costantini-Masci in Consiglio Comunale a Pescara, ora si tratta con la Regione. La fotonotizia che riguarda l'ex Fiat, la Stellantis Tavares, complimenti all'Abruzzo, in arrivo i nuovi furgoni elettrici a Tessa, la visita del Sio nello stabilimento Stellantis di Atessa. E poi, qui di spalla a sinistra, la storia. A Chieti, il rientro dopo l'incidente, il bimbo colpito dal fulmine, lo ricorderete, torna a giocare. Che emozione, eccolo qui, lo vediamo mentre palleggia. Contento, appunto, è tornato a giocare in campo. Pescara scattano i divieti, mercato sfrattato dalla strada Parco, si parte in tre zone. E poi, ospedale di Pescara, boom di lattanti, venti bimbi nati in due giorni. Numeri record, l'Asel di Pescara dice, speriamo di restare su questi livelli. E ancora, a Pescara la protesta dei trattori non si ferma, costi troppo alti per questo protestano. E poi il calciomercato che riguarda il Pescara, la Serie C, il Pescara a caccia di gol, Spalluto, resta tra i preferiti. E poi altri titoli, qui di spalla a destra, in vista del Festival di Sanremo, dove torna il maestro terramano Enrico Melozzi, lo vedete nella fotografia, Melozzi torna a Sanremo, il sogno ha detto, io come Mozart. E ancora in Abruzzo, pensioni, ecco i termini per le detrazioni, dunque li potrete leggere sul centro. E poi i titoli del soppalco, proprio qui sotto la testata, il processo d'appello per i 29 morti, Rigopiano e il giorno di Provolo, ex prefetto, chiesta la condanna, l'ex prefetto di Pescara. L'Aquila, sette anni fa, le sei vittime dell'elicottero precipitato, e poi a Roseto, la riserva, il Borsacchio, la regione conferma, sì al taglio. Abbiamo letto tutti i titoli della prima pagina del centro edizione di Pescara, vediamo l'edizione di Teramo. L'apertura, Borsacchio, il taglio è confermato, Roseto, la maggioranza in regione, boccia l'emendamento dell'opposizione, che ovviamente voleva ripristinare i limiti dell'area, così come era prima del taglio avvenuto alla fine di dicembre, da parte della maggioranza. Poi, vedete, le notizie sono le stesse, anche qui, nel taglio centrale, Tavare scomplimente, l'Abruzzo in arrivo, nuovi furgoni elettrici, il bimbo colpito dal fulmine, che torna a giocare con grande emozione, e poi il maestro Teramano, Enrico Melozzi, che torna a Sanremo, il sogno io, come Mozart. E poi, a Teramo, invece, muore a 60 anni per un malore, sono stati donati gli organi. Ancora, il piano, i locali, ex tercas, al comune, a Teramo, l'ente vuole riportare in centro gli uffici di alcuni settori. A Giulianova, Fadini, pronti, 800 posti nei distinti per i Teramani, per il derby di ritorno tra Giulianova e Teramo, nel campionato di eccellenza. E poi, il voto annullato, Atri, in arrivo il commissario, Ferretti dice, mi ricandido, sapete, ad Atri, è stato accolto il ricorso presentato al Consiglio di Stato, e dunque, è caduta la giunta, l'amministrazione guidata da Ferretti, si andrà al voto, arriva il commissario, si andrà al voto, a giugno, il prossimo 9 giugno. Poi, i titoli del soppalco, li vedete, mi sembrano gli stessi, Rigopiano, il giorno di provolo, l'ex prefetto, chiesta la condanna, all'Aquila, sette anni fa, le sei vittime dell'elicottero precipitato, e poi la nuova strada, panoramica del Gran Sasso, il progetto va cambiato, questi i titoli dell'edizione di Teramo, del centro, vediamo invece l'edizione di Chieti, Lanciano Vasto, Teat e Servizi, Ferrara, il sindaco di Chieti, dice, sono fiducioso, a Chieti, udienza in tribunale per il salvataggio, la sentenza, entro dieci giorni, vediamo i titoli che cambiano per la realtà territoriale teatina, Vasto e San Salvo, anziane derubate in centro e caccia agli spacciatori, e poi a Chieti, scaraventata dall'auto in corsa, i carabinieri indagano sul giallo, una quarantenne trovata in strada e ricoverata in ospedale, a Fara San Martino sparò e ferì un ladro, novantenne, patteggia il calcio di serie D, il Chieti sul mercato, tre rinforzi e un addio per la formazione nero-verde, e poi gli altri titoli abbiamo già letto sulle altre prime pagine, andiamo a vedere l'edizione Aquilana, la prima pagina dell'edizione L'Aquila Avezzano sul Mona, cade dal camion grave un operaio, questa è l'apertura, l'Aquila paura in piazza a palazzo, i soccorritori si calano con il verricello, e poi per i titoli della realtà territoriale aquilana, il ricordo visita con gli azzurri quando Riva venne all'Aquila tra gli sfollati del terremoto il 12 novembre 2009, e lo vedete qui nella fotografia, Gigi Riva all'Aquila nel 2009 con la nazionale azzurra, l'Aquila all'avvertenza, pedaggi a 24 e a 25, l'autostrada e abruzzesi, i sindaci dicono adesso Salvini ci riceva, e poi i titoli qui a fondo pagina, fiaccolata per i caduti del 118, la tragedia di sette anni fa a Campo Felice, l'Aquila la città rende omaggio alle sei vittime del cefalone, Avezzano il comune incassa 700 mila euro dalle multe, e a Pescassero li ha accusato di stupro, il PM dice pena di sette anni. Bene, questi sono tutti i titoli per quanto riguarda le prime pagine del centro, nelle quattro edizioni, adesso torniamo al messaggero, andiamo a vedere adesso la prima pagina del messaggero d'Abruzzo, e poi lo sfoglieremo insieme. Eccoci qua, ecco la prima pagina, l'apertura, il titolo più forte è questo, uccise l'ex nel 2016, condannato a 30 anni, già esce dal carcere. A Pescara è polemica, dopo la denuncia su Facebook del fratello della vittima, le uscite connesse al lavoro. La famiglia di Jennifer Sterlecchini, vittima di femminicidio nel dicembre 2016, esprime indignazione per il fatto che l'assassino Davide Troilo sia stato visto fuori dal carcere. Il fratello Jonathan Sterlecchini, attraverso un post su Facebook, denuncia la situazione e gli eventuali permessi per Troilo, condannato a 30 anni di carcere. La famiglia teme per la propria sicurezza e chiede giustizia per la perdita subita. E poi, taglio alto, autostrade a 24 e a 25, i sindaci chiedono un incontro urgente col Ministro Salvini. Sicurezza e pedaggi, sollecitato l'impegno del governo. Tre anni fa la tragedia, parla il padre di uno dei quattro travolti dalla Valanga, sul Monte Velino. Oggi pomeriggio alle 15, il terzo anniversario della scomparsa dei quattro angeli del Velino, travolti da Nuova Langa, verrà posta una corona al monumento dedicato ai caduti dei vigili del fuoco in via Aldomoro. E nel pomeriggio amici e familiari si ritroveranno in cattedrale per la messa, parla il padre di Gian Mauro Frabotta, una delle quattro vittime. Cammino nel silenzio e sento mio figlio accanto. E poi all'Aquila, spettacolare soccorso, la fotonotizia, lo vedete, l'incidente in un cantiere, l'eliambulanza arriva in centro nello scatto colto da Aleandro Mariani, l'operatore del 118, scende col verricello dall'eliambulanza, ferma sui tetti. Il King's College di Londra studierà i premi, Flaiano, ricerca sui gusti del pubblico. Carla Tiboni dice, decisiva l'attenzione ai film originali. E poi affare a San Martino, due anni fa, sparò dal balcone ai banditi in fuga, sceriffo novantenne, patteggia sei mesi, Domenico Cocco, 90 anni di Fara San Martino. Due anni fa, la notte del 9 ottobre 2021, svegliato da un'esplosione che fece tremare tutto il paese, l'anziano imbracciò un fucile calibro 12 e dal balcone fece fuoco contro l'auto dei banditi che avevano appena fatto saltare in aria il bancomat della BPR al piano terra del suo palazzo. I colpi andarono a segno, offrendo uno dei malviventi che venne scaricato dai complici al pronto soccorso di Vasto. Sanremo in cucina un po' d'Abruzzo, donne chef porteranno al festival piatti locali per cantanti e VIP, si ripete dunque l'esperienza già vista gli anni passati. E poi i titoli qui del soppalco, Gran Sasso, Funivia e il Comune ora vuole la revoca delle prescrizioni. Ad Ortona, Valentino Rossi ieri sul circuito internazionale d'Abruzzo. E poi per quanto riguarda il calcio di Serie C, Pescara in mano spalluto, Vergani è solo. Distorsione. Bene, sfogliamo insieme il messaggero, giriamo pagina. Il nodo delle infrastrutture, autostrade a 24 e 25, i sindaci di nuovo sul piede di guerra, ha chiesto l'incontro col Ministro Salvini per riattivare il tavolo tecnico istituzionale. Sicurezza e pedaggi, i primi cittadini sollecitano un impegno urgente del Governo. La richiesta segue il ritorno della gestione delle tratte alla società strada dei parchi. E poi siamo a Pescara. Salvare il comprensivo 1, voto bipartisan in aula per rivedere la delibera. Pressing sulla regione o ricorso al TAR. L'ordine del giorno passa all'unanimità. Riordino scolastico, dirigenti, sindacati e genitori critici e dicono rischi di abbandono. Cambio di gestione alle mense. Antonelli dice nuove tariffe con sconti per le fasce deboli. Dai primi di febbraio, servizio alla Elior, la conferenza dei capigruppo, affida agli uffici il ricalcolo del costo dei pasti. Dunque a Pescara. Jennifer Buffera social per i permessi al killer. Davide Troilo condannato a 30 anni per l'omicidio, avvistato fuori dal carcere. e vede nella foto in alto la villetta dove Jennifer Starlecchini fu barbaramente uccisa dall'ex fidanzato Davide Troilo durante un incontro per dividere le cose comuni. Litiga col vicino ma viene tradito dalla Roma di Mariana nascosta in casa. Strada Parco, niente verde dopo lo sfratto del mercato, mai sostituite piante e siepi abbattute per realizzare il tracciato del filobus. Il comitato non filovia scrive a Santilli e contesta il mancato rispetto degli impegni. Andiamo avanti, siamo all'Aquila. Incidente in un cantiere, l'eliambulanza in centro. Un operaio di 58 anni rischia la vita precipitando dal cassone di un camion. I soccorsi sono arrivati in elicottero, poi il trasporto in ospedale, in ambulanza. Il sindacato della CGL torna a sollevare la questione della sicurezza e poi infortunio sul lavoro mascherato emergono particolari inquietanti. Sei persone tra rappresentanti e parenti delle ditte coinvolte sono indagate per simulazione. E ancora, Piazza Palazzo parte il restaling. All'Aquila sarà variato il progetto originario. Funivia, il comune chiede la revoca delle prescrizioni. Il sindaco Biondi denuncia il nulla osta e contraddittorio e genera tensione. Nel frattempo, da oggi parte la stagione sciistica in quota. a campo imperatore. E poi per il teatro e la musica Fabrizio Bentivoglio in scena ridotto con lettura clandestina. Cammino nel silenzio e sento mio figlio accanto parla il padre di Gian Mauro Frabotta morto sul velino travolto dalla valanga. Chieti teatro e servizi un piano o B per evitare il fallimento il giudice si riserva alla decisione sulla proposta di concordato. I creditori insistono per il no in caso di bocciatura il comune di Chieti confermerà il servizio di riscossione in attesa della gara e poi l'abbiamo già visto sparò dal balcone e banditi in fuga sceriffo di 90 anni patteggia sei mesi di condanna. Droga nove arresti della DDA sull'asse Lanciano Palermo la fornitura la fornitura di cocaina per la vucceria gestita da figure del capoluogo frentano Leonardo Marino raggiunto in carcere dall'ordinanza di custodia cautelare guardia alta contro i tentacoli della mafia che controllano il transito di stupefacenti nessun giallo sulla morte di Samantha ma la famiglia dice no all'archiviazione del caso e poi vedete Valentino Rossi sul circuito di Ortona Maccaferro dice realtà da valorizzare Valentino Rossi è rimasto colpito dalla struttura e mi ha già assicurato che tornerà e quanto ha detto appunto Maccaferro direttore del circuito internazionale d'Abruzzo di Ortona e siamo a Teramo giovani e preparatissimi il lavoro c'è solo all'estero Lidia Bocci dice ho venduto una casa per formare Gisella ne è valsa la pena l'ex primario Tarquino avete a sinistra nella foto lì a Bocci al centro l'ex primario Tarquini le mie figlie qui senza futuro sono in Germania e in Francia e poi il terzo intervistato Adriano Di Fabio della gastronomia la chiocciola Adriano Di Fabio ha detto sprono quindi le sue figlie Ludovica e Giovanna ad andare via la città sta morendo e non è proprio bene augurante quello che dicono ovviamente queste tre persone che però parlano delle proprie esperienze i giovani che migliano all'estero ma anche al nord Italia sono sempre di più e non tornano una fuga dei cervelli è inarrestabile si legge in questo articolo poi un paziente 60enne muore donati gli organi prelevati fegato reni e corne il fegato sarà trapiantato in campagna reni e corne in Abruzzo la sanità si sposta sul territorio tutti i progetti è stato presentato qualche giorno fa ospedale e case di comunità oltre alle centrali operative territoriali una sanità sempre più prossima al territorio e nuove strutture per stare vicini ai cittadini mercato coperto question time di fuoco l'opposizione accusa la giunta di annuncite ma gli assessori rispondono con fatti e date nella fotografia del consigliere dell'opposizione Carlo Antonetti una seduta di question time condizionata dalla campagna elettorale per le regionali e consiglio comunale dedicato alle interrogazioni con toni accesi e nervosismo tra il consigliere di Forza Italia Carlo Antonetti e l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari candidato per il centro-sinistra dall'interrogazione di Antonetti sui lavori all'ipogeo di Piazza Garibaldi e del mercato coperto di Piazza Verde hanno visto un botta e risposta con l'assessore Roseto Borsacchio bocciato l'emendamento dell'opposizione respinta dal centro-destra la riperimetrazione e poi siamo a Notaresco visite rifiutate il medico tra un mese torna al lavoro i giudici d'appello ieri hanno ridotto la sospensione da un anno a due mesi la guardia medica di Notaresco avrebbe anche spintonato il familiare di un paziente attraversa la strada anziana di 82 anni vestita e uccisa disposta l'autopsia è successo a Silvi Rieco subentra Diodoro e assume i 41 dipendenti siamo a Giulianova ci si occupa di igiene urbana raccolta i rifiuti gli altri 7 stagionali saranno contrattualizzati con l'accordo dei sindacati al momento svitta la tareffa puntuale non cambia il calendario di ritiro dell'immondizia ad Atri il Consiglio di Stato annulla le elezioni vinte dal sindaco Ferretti per 11 voti e poi a Giulianova carnevale a quattro zampe si farà tutti d'accordo velocemente lo sport Pescara Spalluto è la prima scelta e poi Volley Sieco e Abba adesso possono sorridere ma per la salvezza la strada è ancora lunga e poi il basket chiede in cerca del riscatto stasera alle 21 al Palatricalle la Lux avrà di fronte il Lumezzane e poi le Panthers Roseto Panthers leader il club dice fregniamo l'entusiasmo e premi classifica sono le Panthers Roseto in Serie A2 la Serie D di calcio notaresco marcia positiva ma il campo è un disastro e poi per quanto riguarda l'eccellenza Vastese mister Pellicori dice ora è tornata la fiducia e a Sulmona Mecomonaco due match da vincere la carica del coach dopo la vittoria con l'Euro goal di Puglielli è tutto per la nostra rassegna stampa di prima mattina come sempre puntuale alle 7 in diretta torna domani mattina poi non perdete adesso subito dopo questa trasmissione alle 8 formatino alle 9 a colazione poi tutta l'ampia programmazione anche oggi su Super J grazie buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.